Ciao biotine, bentornati in questo nuovo video, oggi vi vengo una nuova serie tv da consigliarvi e si chiama Pacto del Silenzio Oscuri Segreti e la protagonista è una influencer molto famosa che è stata abbandonata da neonata e cercherà di trovare chi è la sua vera mamma e per farlo arriverà a quattro donne che sono sempre state amiche fin da piccole e una di loro nasconde questo segreto, però in realtà lo nascondono tutte perché hanno fatto questo patto di non rivelare mai chi è la vera mamma ma soprattutto un altro segreto molto molto più pesante ed è una serie molto interrecciata, ci saranno veramente persone molto crudeli che faranno anche cose un po' violente però è una serie molto molto carina e soprattutto il finale a me personalmente è piaciuta molto lo trovo molto emozionante quindi ve lo volevo consigliare perché nonostante siano 18 episodi quindi abbastanza lungo è molto scorrevole quindi lo vedrete sicuramente alla velocità della luce cioè perché anche voi vorrete arrivare al finale e nulla quindi io spero di avervi un po' incuriosito ovviamente se volete maggiori dettagli e soprattutto vi consiglio sempre di andare a vedere il trailer per capire un po' di cosa si tratta in modo che capiate meglio di cosa sto parlando perché sicuramente non l'avrete capito e spero di avervi consigliato quindi una serie molto interessante ovviamente se l'avete già visto se l'andrete a vedere fatemi sapere cosa ne pensate voi e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao beautine! ciao